Ah, Davide, non lo sapevo, ero l'ignorante di ciò, lui era l'ignorante, ero l'ignorante, lui mi chiamiamo Luciana, puoi vedere il film? Per giugno o la macchina? No, io non lo so, però mi sa che c'è ancora qualcosa di risposta, Alberto, quello si stampa, il collagino, il collagino, che bello è la macchina, è la stampa.